Domani sera, 21 maggio, allo Spazio Arte Beja Flor, ci sarà una mostra d'arte con due artiste, due pittrici, proprio, che sono... Moro Jessica e Lisa Maniero. Ok, la mostra, come si intitola la mostra? Bugie. Perché bugie? Perché ogni immagine è una bugia. Beh, l'immaginate domani sera allo Spazio Arte Beja Flor, alle ore 17.30, con... Moro Jessica e Lisa Maniero. Vi aspettiamo!